Qui a Formello, eh Bruno? Sei emozionato eh Bruno? Tantissimo livello. Campo di papaveri. Allora, siccome facciamo questo primo trail che è la pecora, andiamo a pecora, piano piano. Formello, pecora. Allora, siccome facciamo. Allora, siccome facciamo. Aspetta, aspetta, non mi sarei molto azzeccato perché non so eh. È sempre un po' titubante. Allora, siccome facciamo. ok madonna vai a sinistra mi piace aspettiamo Marizio attenzione se non siete sicuri non li fate attenzione wow ma vi lappa divertente e ti vuole perdere sto divertimento e ti vuole perdere la radice quadrata ti vuole perdere questo divertimento guarda che radice la radice quadrata 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 Grazie a tutti.